ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora oggi ti voglio svelare una cosa che forse non sapevi e tanti mi domandano come posso ricaricare i pacchi batterie litio come posso ricaricare le celle litio allora si ricaricano ovviamente con un caricabatterie dedicato ovviamente però se non hai caricabatterie dedicato e a casa ti trovi per esempio uno di questi o uno di questi o uno di questi o un alimentatore che hai la possibilità di regolare tensione corrente ti dico che puoi anche caricare il tuo pacco batterie o la tua cella litio anche con questi però attenzione al 99 per cento io consiglio sempre di utilizzare i caricabatterie dedicati per celle litio però se non ce l'hai io uso anche questi moduli per ricaricare come faccio basta andare a programmare tensioni e correnti perché ragazzi alla fine quello che interessa è andare avere una corrente massima diciamo ben prefissata e un attenzione massima ben prefissata poi sarà l'elettronica a fare tutto il lavoro ti spiego io in questo momento mentre parlo sto ricaricando un abitatore uno dei miei abitatori che era mezzo scarico e non ho voglia di andare a prendere il caricabatterie perché ce l'era un'altra stanza sto facendo la ricarica con un alimentatore da banco quello che ho costruito io quello piccoletto regolabile come faccio semplice vado a programmare nel display una tensione di 12,2 volt vado a programmare una corrente massima di 5 ampere perché massimo 50 arriva quella quell'alimentatore però volendo potevo anche mettere 6 ampere o 7 ampere cosa succedeva cosa differiva differiva alla velocità di ricarica più amperai più veloce sarà la tua ricarica questo però lo puoi fare anche con la cella sfusa cioè se io devo ricaricare una sola di questa come la ricarico o con un modulo fatto apposta o eventualmente con uno di questi programmo attenzione acqua 32 corrente a un ampere come standard dice una ricarica rilassata un ampere poi se vuoi una ricarica un po più veloce metti un ampere e mezzo due ampere non oltre non oltre due ampere perché poi è esagerato se invece sono tre o quattro cinque o cinquanta come devi fare e devi fare lo stesso modo ovviamente con questo ci impiegherai più tempo perché se programmi questo che massimo può andare a fare cinque per di uscita deve ricaricare tutte queste ci vuole molto più tempo usa una di questa questo a 20 ampere 25 ampere come uscita sempre programmato l'intenzione corrente con un trasformatore esterno ovviamente che può essere 12 volt che può essere 5 volt 24 in base poi alla tua necessità e al pacco batterie che voltaggio a colleghi questo metti positivo qui negativo sotto tutte in parallelo qui ci metti il power supply cioè il trasformatore che va da 220 a 5 volt per esempio con alte correnti di uscita ora ti faccio vedere facciamo finta di dover ricaricare questo pacco batterie con tutte le celle in parallelo perfetto utilizzo questo e poi prendo e prendo questo perciò questo lo cablo nelle uscite questo è un 5 volt perfetto prendo questo lo collego con questo questo in uscita lo collego con questo facciamo finta qua gli metto il negativo e qua gli metto il positivo perfetto qui vado a regolare 4,2 come tensione massima riuscita è una corrente massima di quanto voglio ripeto posso farlo anche con un ampere però ragazzi un ampere se questo pacco batterie monta tutte queste grancelle che saranno una due tre quattro cinque 10 15 25 35 40 40 60 70 70 80 90 celle 90 celle tutte in parallelo ragazzi stiamo parlando di 200 ampere ora cioè quanto tempo ci stai per ricaricare tutte queste celle tantissimo con un ampere per questo io dico di regolare con una corrente di almeno 10 ampere poi tutto sta questo quanto corrente può supportare idem ma anche questo però già se prendi un buon alimentatore da laboratorio questo alla fine è un uno switching 22 25 volt ci sono anche quelli che arrivano a 30 40 50 ampere di uscita perciò ha voglia a fare questo che aiuterà a mantenere diciamo con la ricarica bilanciata nel senso che darà poco a poco il voltaggio man mano la corrente scende aumenterà il voltaggio perciò fa tutto diciamo in automatico è normale che deve andare utilizzare dei connettori buoni non consiglio andare a utilizzare questi suoi ma di andare a saldare direttamente nelle nelle piastrine e di mettere dei connettori ad innesto così da fare una cosa più veloce più professionale questo funziona anche per se il pacco fosse stato da 12 volt se fosse stato da 24 da 36 da 48 basta cambiare il voltaggio ingresso e variare i settaggi di questo e poi andare a ricaricare qualsiasi pacco batterie e il ricarica batterie commerciali quelli che vendono diciamo fatti apposta per il 48 volt per il 36 volt per il 24 volto cosa sono ragazzi sono degli apparati che trasformano la 220 perciò hanno integrato questo più questo già settato a un determinato voltaggio al determinata corrente con la sola differenza che quelli in commercio al massimo puoi trovare un 3 ampere perché appunto sono piccoli sono compatti sono chiusi non possono respirare non possono dissipare tu qui invece customizzando un caricabatteria doc puoi andare a fare anche un caricabatterie di quelli stra 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 professionali sotto comunque in descrizione ti lascio il link dove troverai i vari accessori le varie cose che hai visto nel video in più ti invito a iscriverti al canale telegram dove lì in vado a inserire tutto quello che mi piace come prodotti tecnologici accessori strumentazioni e qui in descrizione non posso andare a mettere tanti però lì sì lì ne vado a mettere tantissimi ogni giorno questi sono i fascicoli che trovi sempre su amazon 7s 6s sono delle guide tecniche che ti aiuteranno a appunto fare chiarezza e assemblare un pacco batterie sia 7s che 6s c'è anche il 10s ci sono anche in inglese eccetera eccetera corso batteri maker è un corso unico in italia forse anche in europa e forse anche nel mondo dedicato alla tecnologia litio pacchi batterie eccetera eccetera quello che io ti sto dicendo in questo video ragazzi è l'uno per cento forse di tutto quello che so e tutto quello che puoi sapere grazie al corso che in questo periodo è anche scontato ad un prezzo davvero davvero concorrenziale sotto comunque in descrizione trovi tutti i link a tutto quello che ti sto dicendo se il video ti è piaciuto un like al prossimo video ciao grazie grazie